Ciao a tutti! Quest'oggi vi mostrerò come costruire una ruspa. Cominciamo con il mettere tre blocchi di calcestruzzo giallo più in alto di uno dal terreno. Poi mettiamo ne altri sette di qui. E due alla fine. Successivamente riempiamo questo lato di lastra di pietra. Anche qui sotto. E ripetiamo dall'altra parte. Poi mettiamo una scaletta di mattoni di pietra qui. E una qui. Sotto di esse mettiamo le due al contrario. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Dopo facciamo una riga su di qui di lastre di pietra. E una sotto. Per tutti e due i lati. A questo punto scegliamo quale sarà il davanti della nostra ruspa. E mettiamo una fornace. Ai suoi lati facciamo due righe di quattro blocchi di calcestruzzo giallo. E mettiamone due qui. Qui davanti mettiamo tre sbarre di ferro. Appena sotto mettiamo due scalette nelle due estremità. E davanti mettiamone cinque a terra. Sopra mettiamo ne altre cinque al contrario. Poi, con del calcestruzzo nero, facciamo due colonne alto e due qui dietro. Qui una riga di tre. In questi due spazi mettiamo due porte di ferro. Qui mettiamo cinque vetri neri. E mettiamone tre anche qui dietro. Successivamente facciamo il tetto con delle lastre di pietra. Mettiamone tre in più qui. E una qui. Ora, passiamo a decorarla. Mettiamo qui un tappeto giallo. Qui una staccionata di mattoni del nether. E mettiamo un pulsante su ogni lato. In modo da poter aprire le due porte. Mettiamo due pulsanti anche qui dietro per decorare. E due anche in questi punti. Entriamo in una porta. E mettiamo un pulsante qui. E qui davanti una leva. Usciamo. E ora possiamo sostituire l'erba dove ci sono le ruote con della terra a brulla. Con questo la nostra ruspa è terminata. E noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!